Uomini che perseguitano le donne, due storie di stalking in Puglia finite con l'arresto di due molestatori. La prima a Terlizzi nel Barese, un uomo di 37 anni di Molfette, è stato arrestato dai carabinieri ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking ed accesso abusivo a sistema informatico, ai danni di una quarantenne con la quale aveva avuto frequentazioni. Nei confronti del 37enne è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento scaturisce dalle denunce sporte dalla vittima stanca di continue avvestazioni. L'uomo avrebbe pedinato e minacciato la donna a casa e sul posto di lavoro, introducendosi abusivamente nei suoi profili Facebook e pubblicando foto e filmati anche intimi sottratti alla vittima contro la sua volontà. A Taranto, invece, un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti, lesioni personali e stalking ai danni della convivente. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto Pompeo Carriere, su richiesta della PM Rosalba Lopalco. Le indagini sono state avviate a dicembre scorso dopo la denuncia sporta dalla vittima, picchiata, ingiuriata e vessata per gelosia dal compagno. La donna è stata affidata ad un centro antiviolenza di Taranto. Grazie.